Quelle che stiamo per raccontare sono storie di diritti e storie di trasformazione. Sono storie che ci raccontano come gli italiani sono riusciti a conquistare il diritto al divorzio e una legge sull'aborto. Ci raccontano come si è arrivati a due tra i referendum più importanti della storia italiana e di come si costruisce, tassello dopo tassello, la coscienza di un paese sulla strada dei diritti. Ad aiutarci in questo racconto ci sarà una donna che ha vissuto quegli anni e quelle conquiste, Emma Bonino. Io sono Lorenzo Varavalle. Io sono Lorenzo Pregliasco. E questo è qui si fa l'Italia. I momenti che hanno fatto la storia del nostro paese raccontati a chi come noi non li ha vissuti. Sai che mi mancava? Era un po' che non la sentivo. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. È un piacere poter raccontare un po' di storie su su questo paese, su chi la storia l'ha fatta di questo paese in queste sale. Stasera raccontiamo il percorso e la storia dei diritti della legge del referendum sul divorzio e della legge dei referendum sull'aborto. È interessante studiarle, capire da dove partono queste storie anche alla luce dei dibattiti che ci sono stati molto recentemente riguardo ai quesiti referendari su eutanasia e su cannabis e prima sul DDL-ZAN. È interessante perché si capisce che i diritti e fare i diritti attraverso la politica è un percorso, un processo abbastanza lungo. Pensate che la prima volta in cui si è proposta una legge sul divorzio era il 1878, la seconda è arrivata praticamente cent'anni dopo, nel 1965, quindi non è stata proprio una cosa al passo col paese. Nel 65 però qualcosa è cambiato perché l'Italia nel 65 inizia questo inizia agli anni 60 con le Olimpiadi di Roma e le finisce poi come tutto il mondo con lo sbarco sulla Luna. Già ci dà un'idea di quanto dovrebbe essere bello vivere negli anni 60 quando il tuo obiettivo è la Luna. La storia però dei diritti negli anni 60 è una storia che parte dagli Stati Uniti, la seconda ondata femminista. Non si lotta più per il voto, si lotta per delle cose anche molto attuali, l'emancipazione femminile, la violenza domestica, le pari opportunità lavorative e se sono ancora delle cose molto attuali forse anche per il tipo di paese che eravamo e che siamo stati anche negli anni 60. La sfera lavorativa era completamente in capo agli uomini, quella casalinga completamente in capo alle donne. Abbiamo trovato questo bello spot, bello, di una lavastoviglie Candy. Festa in cucina, è arrivata la lavastoviglie Candy. Candy's Tipomatic non vi chiede spazio, ve lo regala perché si sostituisce a un armadietto e ve ne libera altri. Siate in tre o siate in otto, Candy's Tipomatic contiene veramente tutto ciò che serve in cucina e in tavola. Scusi signora, forse lei è fuggita una cosa importante. Vogliamo ripetere? Guardi, le stoviglie sopra. Cioè ci sono talmente tante cose contro il femminismo che un femminista oggi esploderebbe perché non solo c'è la lavastoviglie per le donne, c'è il mansplaining su come funziona la lavastoviglie. È tutto incredibilmente sbagliato. Però non è solo un vivere le cose. Per le donne negli anni 60 è impossibile accedere a determinate professioni. Potevano venire licenziate non solo se facevano figli ma se si sposavano addirittura, se arrivavano prima. Nel 63 finalmente arriva una legge che determina pari opportunità negli uffici pubblici e nelle professioni. Nel 65 bisogna aspettare due anni ma finalmente ci sono le prime giudici donne in Italia. Quindi è un decennio che sta cambiando. Abbiamo chiesto, avete sentito all'inizio, a Emma Bonino che cosa volesse dire vivere quegli anni. E lei ci ha spiegato questo, che era un paese che usciva dalla guerra con tutti i suoi problemi possibili, immaginabili, ma proprio per culture così radicate, attenzione, clericali o comuniste. In Prima Repubblica abbiamo la DC e i comunisti. Stentava molto a capire le libertà individuali e le scambiava sempre per anarchia. Questo è un passaggio che a noi è piaciuto molto quando dice, e noi a dire no, veramente la libertà non è anarchia, la mia libertà finisce dove inizia la tua. Non esistono diritti senza doveri. Questo è il passaggio. Se vogliamo però negli anni 60 è il primo momento in cui la politica capisce che c'è un paese che sta andando a una velocità diversa. Prima però ho iniziato dicendo, sono storie che partono da lontano e arrivano lunghe. Non era la prima volta, non era la seconda volta in cui si parlava di divorzio in Italia. Si è iniziato a parlarne vent'anni prima. Mi sbaglio. È così e provo a raccontarvi un altro tassello che poi darà spazio alla nostra chiacchierata. Ma è un tassello importante perché bisogna mettere dei punti fermi e fare un passo indietro, come diceva Lorenzo, perché se noi torniamo al 1946, torniamo al momento in cui questi signori e alcune ma poche signore all'epoca, tristemente, scrivevano la nostra Costituzione, l'Assemblea Costituente. Ed è appunto nell'Assemblea Costituente che si anima un dibattito che dura molto a lungo proprio sul tema della indissolubilità del matrimonio. Stavano scrivendo di fatto l'articolo che poi sarebbe diventato l'articolo 29, che oggi è quello che disciplina la famiglia e il matrimonio, e in sostanza c'erano due schieramenti in questa Assemblea Costituente. C'erano i democristiani, cattolici, che avevano un'impostazione più conservatrice, più orientata a cercare di cristallizzare un punto di vita più tradizionalista sulla famiglia e la democrazia cristiana voleva mettere nella Costituzione l'indissolubilità del matrimonio. Dall'altra parte, l'altro grande interlocutore avversario dei democristiani era il Partito Comunista, il Partito Comunista rappresentato dalla capogruppo Nilde Jotti in quella occasione, però i comunisti, attenzione, non volevano mettere matrimonio indissolubile della Costituzione, però si guardavano molto bene dal parlare di divorzi. I comunisti erano molto cauti in quegli anni, siamo nel 46-47, quindi pensate che da un anno era finita la Seconda Guerra Mondiale. Togliatti era convinto che il paese non fosse una priorità dell'Italia quella dei diritti civili e quindi in quella fase anche per ragioni un po' elettoralistiche si era convinto che ad esempio le masse popolari cattoliche potessero essere un bacino di voti per il Partito Comunista e a quel punto stava molto attento a parlare di divorzio. E poi, lo sapete, quegli anni che ci portano a questa cosa qui, cioè alla Costituzione della Repubblica Italiana, erano anni di compromessi, di equilibri difficili. Considerate che in questi mesi qui, in cui in Assemblea Costituente si parla di come disciplinare il matrimonio, al governo con De Gasperi c'erano ancora democristiani, socialisti e comunisti. Insomma, altro che governo Draghi, no? Nel senso parliamo di equilibri difficili. Insomma, oggi ci appare un po' anacronistico, credo, a tutti noi che in Assemblea Costituente si passassero le giornate a parlare di indissolubilità o meno del matrimonio. Eppure era un dibattito che all'epoca coinvolgeva giganti della politica. Giorgio Lapira, un signore di credo 29 anni che si chiamava Aldo Moro, Piero Calamandrei, insomma, erano loro a essere coinvolti in queste riflessioni. E in particolare vi cito Piero Calamandrei, grande giurista toscano, antifascista, esponente del partito d'azione, perché lui a un certo punto dice guardate che questa cosa di mettere in Costituzione che il matrimonio non può essere sciolto non è solo un problema di libertà personale, è un problema di laicità dello Stato. E Calamandrei dice, signori, colleghi, guardate che neanche Mussolini, quando la Chiesa, facendo il concordato del 29, i patti lateranensi, gli chiese di mettere la non scioglibilità del matrimonio nell'ordiamento italiano, neanche Mussolini gli disse di sì. E la frase di Calamandrei è questa qua. Io mi domando, colleghi, se questa menomazione di sovranità, di laicità, che il governo fascista non consentì, possa essere proprio la Repubblica Italiana, la Repubblica Democratica Italiana, a consentirla. Vedete quale livello di dibattito era in corso in quei mesi. E arrivo, diciamo, a concludere con due altri punti che poi lasceranno spazio alla nostra discussione. Perché una cosa che ha incuriosito molti, penso anche che hanno sentito il podcast o che lo avevano letto in altra forma, è che in realtà, mentre si parlava di questo, nell'Assemblea Costituente, in Italia qualcuno poteva divorziare. I cattolici potevano fare appello alla Sacra Rota, a certe condizioni, tribunale ecclesiastico che ha la possibilità di annullare il matrimonio in alcune condizioni. Molti altri andavano all'estero, e all'estero vuol dire soprattutto a San Marino. Vuol dire soprattutto a San Marino dove, ammetto che è una cosa che ho scoperto scrivendo la puntata, hanno divorziato tantissime persone della cultura popolare italiana. Qui ne vedete alcune, Anna Magnani, Adriano Olivetti, ma potrei citarvi Giulio Inaudi, Giorgio De Chirico. Togliatti no, non divorziò, ci provò, ci provò a divorziare, poi alla fine non divorziò, però ci ha provato. Divorziò Luigi Longo, che fu l'altro segretario del Partito Comunista. Insomma, la verità era che in quel momento lì in Italia alcuni potevano divorziare, quelli che potevano permetterselo in un certo senso. Vado a chiudere con un momento un po' thriller, nel senso che ci troviamo ad aprile del 1947 e si arriva alla votazione decisiva sul famoso articolo della Costituzione, vi ricordate l'Assemblea Costituente, che doveva stabilire se questo matrimonio andava definito come indissolubile o no. Qual era la conseguenza? Che se fosse stato definito indissolubile, noi di divorzio non avremmo mai più potuto parlare, stasera non ci saremmo trovati, sciandi a meno di riforma costituzionale. Non saremmo nati forse. E quindi insomma era una cosa non da poco. Ebbene, che cosa succede? Siamo nell'aprile del 1947 e si arriva alla votazione decisiva e guardate com'era l'articolo discusso. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio indissolubile. Voi capite che questa cosa qui avrebbe bloccato ogni possibilità di riforma e di introduzione al divorzio. Un socialdemocratico che si chiama Umberto Grilli dice, ma io vi propongo un emendamento colleghi, togliamo solo la parola indissolubile. Una parola sola. Rimane tutto uguale ma togliamo la parola indissolubile. Si arriva alla votazione su questo emendamento, colpo di scena, colpo di scena. Perché 20 deputati, 20 deputati chiedono il voto segreto. E i democristiani dicono, ah, voto segreto no, ma facciamo il voto palese. Noi vogliamo sapere chi è che vota per tenere l'indissolubilità del matrimonio o no. Il presidente dell'assemblea costituente comunista Umberto Terracini dice, il regolamento parla chiaro. Insomma, se chiedono voto segreto e voto segreto. E siamo al 23 aprile 1947. Cosa mi ha colpito in questa data? Erano esattamente due anni dalla liberazione, praticamente. Pensate, è come fosse marzo del 2020 rispetto a oggi. No? E quindi era veramente un momento, era un attimo prima. E si arriva alla votazione, una votazione molto confusa. È stata, da quel che ho visto, l'unica votazione a scrutinio segreto nell'assemblea costituente. Ho letto questa cosa qui che mi ha molto stupito. E si votanti 385, maggioranza 193, tenete a mente questo numero, voti contrari all'emendamento 191, voti favorevoli 194. Per un voto passa l'emendamento di Grilli e l'articolo della Costituzione diventa questo qui. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, punto. Il matrimonio non era indissolubile e la storia che raccontiamo stasera parte da quella notte del 23 aprile in Assemblea Costituente. Notevole. Magni dopo, Magni ce lo giochiamo come jolly. No, ma Magni serve a... perché io porto tutto nel presente. Allora, e lo faccio per una ragione, che è la stessa... che mi confermano alcune parole che ho sentito dire stasera. Innanzitutto grazie di essere qua e buonasera. Io non c'entro niente, sono semplicemente... non c'entro niente, non sono tra gli autori e autrici di questo podcast, sono una giornalista molto amica e fan dei presenti. No, perché alcune parole che avete detto adesso mi hanno fatto fare le stesse riflessioni che ho fatto ascoltando il podcast. E cioè, quanto è anacronistico oggi parlare di queste cose? Zero. Nel senso che sulla parola indissolubile legata al matrimonio, per esempio, io mi ricordo l'acceso dibattito che ha animato il nostro paese e non solo la bolla di Twitter. Perché Twitter è il mezzo, così, in cui rileviamo di che cosa si parla, in realtà poi ci rendiamo conto che lo facciamo soltanto tra noi. All'autogrill invece parlano giustamente dell'ultimo libro di Fabio Volo. Però ecco, quando c'è stato... mi pare fosse il 2015, spero di non sbagliarmi, non fa niente, se mi sbaglio è perché sono una giornalista, ma c'era stata la questione del divorzio breve. Ve lo ricorderete? Ecco, il dibattito sui giornali e a casa, tra le persone, era identico. Identico. Cioè, in ballo c'era l'indissolubilità del matrimonio, come se indissolubile fosse un predicato inevitabile del matrimonio. E la sola ragione per cui il matrimonio ha da essere celebrato, no? Cioè, nel momento in cui tu decidi di sposare per sempre, di sposare e dire per sempre sarai la mia compagna, tutte quelle fregnacce che si dicono quando ci si sposa, scusa. Perché lui ha questa fede. Ti aspettavo, ti aspettavo, ma infatti mi sono messo di qua apposta. La potevi togliere come se stasera dove vi tolgo. Il tesoro. Il tuo tesoro, esatto. Un anello per ghermirli tutti. Esatto. Però è questa cosa qui, no? Cioè, se noi diciamo che il matrimonio si può interrompere, allora non ha senso che ci sia. E nell'anno del Signore 2015 la discussione su questo è stata rovente. E io la osservavo da un giornale particolare, da questo punto di vista, che era il Foglio, che non si era ancora completamente smarcato come ha fatto poi da alcune posizioni e battaglie di retroguardia, provocazioni, chiamatele come volete, di Giuliano Ferrara. Però io lì mi sono resa conto davvero che nel nostro paese esiste una convinzione radicata. Il fatto che quando ti sposi allora tu devi adempiere a un dovere che resiste per tutta la vita, così come quando fai un figlio o resti incinta, improvvisamente tu sei in dovere di tenerlo. E i limiti della nostra legislazione, in particolare della legge sull'aborto, voi concludete il podcast proprio su questo, sono legati a un'idea che abbiamo, ce l'abbiamo tutti quanti, anche la parte non presentabile di ciascuno di noi, il più progressista, pensa che in fondo se resti incinta forse è il tuo dovere continuare la gravidanza. È un problema ed è un problema che è segnalato dal fatto che in questo paese esiste l'obiezione di coscienza e il 67% dei nostri medici è obiettore. Quindi i diritti, come dice Emma, i diritti civili, come dice Emma Bonino splendidamente nel vostro podcast, vanno continuamente difesi, non soltanto in Italia, però è una cosa su cui si deve continuamente vigilare. Quindi quello di cui parliamo stasera che ci racconta un'Italia vintage con lo spot della Candy, in realtà non è una finestra su un paese che non c'è più e che è bello o brutto ricordare, che è importante ricordare per capire che cosa siamo stati e cosa non diventeremo mai. No, stasera noi stiamo parlando di qualcosa che ci dimostra che l'andamento della storia non è progressivo, come volevano alcuni ottimisti di sinistra, ma è esattamente retrattile o forse tende allo sfacelo, come io penso, ma questa cosa non l'attribuisco alla sottoscritta perché non sono abbastanza illustre, però è la lezione di Elsa Morante nella storia, no? Ed è la ragione per cui quel romanzo era stato così osteggiato anche degli amici di sinistra. La storia a volte è sfacelo ed è il motivo per cui i diritti vanno non solo conservati, alcune battaglie anche se poi culminano nell'ottenimento di una legge vanno preservate. Ci sono moltissime forze che mettono in discussione i diritti di cui parliamo stasera, quello all'aborto e quello al divorzio, in molte parti del mondo. Ogni tanto c'è un articolo dell'Atlantic che dice che la generazione Z, purtroppo è vero, anche in America, lotta contro l'aborto che è abbastanza impressionante se ci pensate. Io ora in Italia non ho dati su questo, però ho davanti a me un paese che in fondo, davanti alla notizia del fatto che il 70% dei nostri medici è obiettore e quindi di fatto rende impraticabile una legge, non ho un paese indignato da questa cosa. Ho un paese indignato molto di più dallo schiaffo di Will Smith a Chris Rock e questo secondo me la dice lunga su un costrutto culturale contro cui non abbiamo battagliato abbastanza. Parlo di costrutto culturale perché poi adesso se ne parla moltissimo. Ieri sera ero qui a parlare di un fumetto barba che vi consiglio di leggere, di Alec 30 che è un fumetto sull'affermazione di genere, una storia bellissima, finemente raccontata. Però ecco, c'è una generazione che ci parla di quanto è difficile in questo tempo e nel nostro paese parlare di identità e cercare di capire che l'identità è un costrutto culturale, ha a che fare con quello che si è, ma quello che si è se non è modificabile è certamente migliorabile. E stasera io penso che parliamo di questo. Vorrei che parlassimo anche molto, questo lo metto qui, poi voi avete raccolto molte storie e molte testimonianze, parliamo anche della difficoltà che ha la sinistra nel capeggiare non solo queste battaglie, ma i discorsi che governano queste battaglie, che sono i discorsi di autocoscienza molto privati. Le femministe degli anni 70, quelle della seconda ondata, alle quali non siamo grati abbastanza, secondo me proprio come paese, ci hanno insegnato che il privato è bello perché il privato è pubblico. Ed è una cosa che noi ci siamo messi alle spalle e non riusciamo a portare in questo presente. Tant'è che poi il femmismo si è arenato, poi c'è stata la terza ondata, poi adesso c'è la quarta ondata, però di fatto non facciamo ancora i conti con tutto quello che di quelle leggi è rimasto, viene continuamente violato ed è rimasto inespresso. Un po' di tempo fa leggevo un pezzo bellissimo di Ritanna Armeni sulla maternità e lei diceva io non mi posso perdonare come femminista attiva negli anni 60 e 70 il compromesso che abbiamo accettato. Parlava proprio della legge sull'aborto, cioè le diceva alla fine anche nella conversazione con i compagni. Noi abbiamo accettato che quei diritti venissero assicurati solo in casi emergenziali, è il grande limite della legge sull'aborto. Lo ripeto, voi ci concludete il podcast. E di fatto quella legge lì è identica, cioè sono passati quanto 40 anni e noi in questo paese possiamo ancora abortire in casi molto specifici di gravità. Quando c'è in pericolo la salute della donna, quando la donna è in una condizione economicamente molto precaria, non è ancora passata l'idea, per carità discutibile quanto volete e con discutibile non intendo che ci lascia per pressi, ma nel senso che si può discutere del fatto che se io posso autodeterminarmi e la mia autodeterminazione passa dal mio corpo, nel senso che anzi non passa ma inizia e finisce con il mio corpo, allora quello che succede nel mio corpo io lo devo poter decidere, indipendentemente dalla congiuntura in cui mi trovo a fare quella scelta. Quindi significa che se resto incinta e un figlio non lo voglio, non c'è una ragione che io devo andare a spiegare al medico, al legislatore, all'avvocato, al tribunale, tale per cui io debba poter dire sì o no e debba anzi aspettare l'assenso di qualcuno. Quindi questa è una materia caldissima ed è una materia che ha a che fare con il principio della differenza tra i sessi, il principio cardine, uno dei principi cardine del femminismo di seconda ondata, che era proprio il femminismo della differenza e che ahimè non ha trovato ancora un canale di dialogo con invece il femminismo della terza e della quarta ondata. Sono sotto gli occhi di tutti le polemiche con la Rowling massacrata da parti della comunità LGBTQ+, perché quando tutte le volte che lei dice che è una donna è una donna, allora c'è qualcuno che la massacra. Però ecco sono una serie, poi non è vero in realtà, sono le cose che scrivono i giornali per dire che c'è, no ma è la verità che c'è una guerra in corso. Poi invece quando parli con le persone che quei movimenti li fanno, li pensano, li vivificano, ti accorgi che poi è tutto molto diverso. È come la cancel culture che, come dice Michele Masneri, è una dittatura tutta italiana. Però ecco, sulla differenza tra uomo e donna, questo è un paese, e che cosa dipende da quella differenza? Questo è un paese che ha ancora le idee molto confuse. Quindi ecco, questo per dire che le storie che voi raccontate non sono anacronistiche perché sono irrisolte, perché sono incomplete e perché quelle leggi lì sono state delle concessioni. Arrivate a un punto in cui c'era una maturazione della classe politica che non corrispondeva probabilmente alla maturazione culturale e sociale del paese. Adesso forse c'è il contrario. Dici? Beh sì, è la cosa che diciamo sempre, no? Tu prima citavi il DDL ZAN, che cosa abbiamo detto continuamente? Che il paese era molto più avanti rispetto a poi chi invece lo amministra e governa. È vero? Sì, tra l'altro una cosa che mi ha affascinato molto scrivendo la puntata, insomma, raccogliendo i vari spunti che hanno portato alla puntata, è che molti lessero quella, diciamo la legge sul divorzio, non tanto quella sull'aborto, poi magari dopo ne parliamo. Ci sono state due leggi molto diverse, vissute molto diversamente anche dai media, dalla società italiana, però il divorzio fu vissuto come un momento che mise la politica di fronte un po' a questa cosa che dicevi tu, cioè al fatto che il ritmo della società non coincideva più con il ritmo della politica, mettiamola così. E in questo, come dire, contesto, la cosa che poi mi colpì, qui tra l'altro no, Lollo abbiamo i due autori della legge sul divorzio che sono un socialista e un liberale, due maschi, due uomini, è un dato di realtà, ma appunto, certo, certo, però. Un elemento interessante, e qui vedo che Francesco è sensibile al tema, un po' uscila già prima, cioè i comunisti, la sinistra, il partito principale della sinistra, era tutt'altro che progressista, che adesso... Adesso i comunisti non ci stanno più, per cui hanno risolto il programma a monte, diciamo. Dai, gli eredi, gli eredi. Ma, di nuovo, buonasera anche da parte mia, grazie di essere qui. Ma allora, io, cioè, gli spunti che ci sono stati negli interventi precedenti sono molti, intanto questo paradosso incredibile che abbiamo imparato 40 anni fa, che il personale è politico, oggi che spariamo il personale sui social 75 volte al giorno non conta più, cioè c'è una sovra rappresentazione forse, per cui l'abbiamo anche un po' portato in ritirata. L'atteggiamento del Partito Comunista, secondo me, è una delle cose storiograficamente più interessanti da analizzare da questo punto di vista, perché da un lato era l'altra chiesa, per fermezza delle convinzioni, anzi forse da un certo punto di vista era ancora più chiesa della democrazia cristiana, cioè era l'altra chiesa nel senso letterale del termine rispetto a sacra romana chiesa. Come c'era il Papa c'era il segretario del PC, carica, vitalizia, che non cambiava mai, voi vedete l'elenco dei segretari del Partito Comunista si contano, diciamo sono le dite di due mani fondamentalmente, vedete l'elenco dei segretari della democrazia cristiana, cioè da diventare scemi fondamentalmente, è anche uno dei motivi per i quali c'è stato sempre un rapporto anche da questo punto di vista a livello di politica internazionale, gli Stati Uniti sono sempre stati molto spiazzati dal fatto di dover fare affidamento per forza su quel partito senza avere sempre un interlocutore più o meno fisso e c'era una morale a volte un po' ipocrita, come era il caso di Lungo che ha divorziato a San Marino, di Togliatti che non ha divorziato ma ci aveva a sinistra l'amante e a destra la moglie, nell'assemblea costituente c'era Rita Montagnana da una parte, nel Deiotti dall'altra, lui come si girava si girava, trovava affetto, mettiamola in questo modo, però abbiamo ascoltato testimonianze anche di militanti, di dirigenti dell'epoca che ci raccontavano che tale era anche dopo l'introduzione della legge sul divorzio, dopo le battaglie che lo stesso partito comunque aveva deciso di fare, un segretario di sezione decideva di divorziare e il segretario di sezione dopo le dimissioni. Questo era ancora in alcune zone d'Italia il partito. D'altra parte c'era stata secondo me una incapacità di capire anche quelle fasce della popolazione che ancora il partito comunista riusciva a rappresentare in modo quasi monolitico che tipo di sensibilità avesse. Forse l'impressione era ancora che quelle fasce della popolazione fossero quelle dell'inchiesta sulla miseria del 51, cioè un po' quello stereotipo del povero arretrato che non si può permettere il lusso di preoccuparsi del divorzio perché anzi la famiglia è politica sociale per alcuni di loro. Invece c'è nella biografia di un dirigente di secondo piano ma comunque importante dell'epoca che si chiama Gianni Cervetti che era il segretario della federazione di Milano, Berlinguer poco prima del referendum ma ancora il PC aveva deciso di schierarsi soprattutto grazie all'influenza dell'Udi, dell'Unione delle Donne Italiane, di Nilde Iotti, di Giorgio Amendola che poi paradossalmente era la destra del partito. Cervetti gli dice sì a Milano il no dovrebbe prevalere però intorno al 55%, Berlinguer dice no a 55% a Milano è poco, poi peraltro siamo nella città in cui il no ha fatto registrare i suoi picchi massimi. Invece poi il paese in che modo risponde? Risponde con una mappa elettorale, non so se forse ce l'abbiamo, in cui anche le zone a forte tradizione democristiana, a forte tradizione monale, che è messa con i colori sembra un po' la mappa del referendum del 2 giugno, cioè in cui il centro nord vota per... invece in realtà la cosa interessante che si vede... Precisiamo solo che il no era il no all'abrogazione. Sì, il no era il no all'abrogazione, siamo in zona, c'è una canzone molto bella che dice non capiamo perché se votavamo sì il divorzio non c'era, se votavamo no invece c'era, però in realtà ecco vedete che voglio dire l'arretratissima Sicilia, eppure un po' prevale il rosso, un po' il blu e azzurrino, cioè anche nelle zone a forte insediamento democristiano e missino, i voti per il sì ci sono, sono maggioranza, ma sono di meno. Tanto è vero che Marco Pannella quella stessa sera o il giorno dopo ringraziò le masse cattoliche, monarchiche del movimento sociale, perché evidentemente nel segreto dell'urna Dio quella volta non li aveva visti. C'è una frase bellissima di Guia Soncini che dice che l'Italia è un paese fondato sull'adulterio e io penso, è verissimo, Guia Soncini insomma non a caso ne sa, però è vero e secondo me è lì che c'è la questione della diversità di cui parlavi tu su queste due leggi, perché in fondo il divorzio è una roba che aveva a che fare anche con i maschi e quella diversità lì si riverbera tantissimo in questa cosa meravigliosa di San Marino, cioè a San Marino andavano a divorziare la sacra rota rossa, anche io questa cosa non la sapevo l'ho scoperta con il podcast, ma no ma sono rimasta fulminata se penso che qualche mese fa a San Marino finalmente è passata la legge sull'aborto, quindi San Marino un'anomalia italiana e chiaramente è vero, poi San Marino casa delle libertà perché era anche durante il covid quello proprio brutto, quello senza restrizione, cioè la gente andava a San Marino, perché a San Marino non c'era bisogno del green pass per andarsi a divertire, grandissime serate a San Marino. Però un'altra stratagemma dell'epoca era quello, perché oltre all'assenza del divorzio c'era il delitto d'onore, perché poi noi le cose le facciamo sempre, era quella di divorzio all'italiana, per cui io faccio accoppiare mia moglie con un altro, li uccido, mi faccio quei sei mesi di galera e poi però mi posso risposare tutta la vita, quindi è chiaro che il divorzio all'italiana è dei primi anni sessanta, insomma quindi ancora un po' ce ne voleva, però poi forse il cinema viaggermi aveva colto. No, ma il divorzio all'italiana secondo me è un film di un, come dire, che parla al presente, quale marito italiano non ha pensato a quella cosa, a quella via lì, però poi parliamo anche di divorzio all'italiana e anche di seduzione. A me ha colpito molto quello che tu dicevi prima sul fatto che poi è quello che ci ha anche detto Emma Bonino sul fatto che i diritti li devi lottare ogni giorno anche sulle cose che hai già acquisito e ci si chiede un po' perché, sì è vero, in questo momento il paese forse è più avanti, penso all'IDL Zane, quello che hai citato tu, però è anche vero che in questa storia in particolare quello che salta fuori in maniera evidente, soprattutto nella storia della legge del referendum sull'aborto e la presenza di un partito che è il partito radicale che in questo momento nello spettro, diciamo così, del nostro Parlamento e della nostra vita pubblica manca perché era un partito che se non altro ha condotto delle battaglie che nessuno conduceva per opportunismo, penso ai comunisti perché io non vado sull'aborto, sul divorzio perché alla fine comunque i voti dei democristiani magari me li vado a prendere, i voti delle masse cattoliche e soprattutto non aveva paura di fare dei gesti di disobbedienza civile che per l'epoca, ma ancora oggi io penso, si dice per l'epoca la disobbedienza civile, i consultori nella sede del partito radicale, incredibile, qui c'è Marco Pannella tra l'altro a destra. Qui credo siano vicino al senato, vero? Potrebbe essere. Non conosco i cortili di Roma a memoria. Il punto è che c'era un partito, la legge sull'aborto è stimolata dal fatto che Adele Faccio viene arrestata perché Marco Pannella conduce, fanno un sit-in, fantastico, fanno questo sit-in al teatro Adriano, arriva la polizia per cacciarli tutti e Pannella dice no, ma guardate c'è un mandato di cattura su di lei, dovete arrestarla, se no questi qua dicono, no no, dovete arrestarla assolutamente, l'arrestano e da lì parte questa mobilitazione del partito radicale per raccogliere le firme e abolire una legge che in realtà la legge sull'aborto, c'era, era una legge del 1930 fascista che diceva l'aborto... del codice penale fascista, diceva l'aborto è un delitto contro l'integrità della stirpe, ma infatti se voi oggi comprate un codice penale, c'è ancora la rubrica di quegli articoli che sono stati abrogati, che è esattamente quella, c'è scritto che sono stati abrogati con la legge... Nelle puntate precedenti, è bello comunque... Era il codice penale che per il resto più o meno ancora oggi diciamo... E quindi però, per riallacciarmi un po' anche al discorso dell'oggi, forse oggi manca quella parte, no, nella politica e nell'opinione di tutti noi. Personalmente, qui opinione del tutto personale, sono stato molto contento di vedere i ragazzi in strada qualche mese fa, qualche settimana fa, era un po' che sui giornali non si vedeva un po' di ragazzi che facessero casino. Muri puliti, popoli muti, no? Un po' quella roba lì... Tu parli dei ragazzi in strada qualche settimana fa per i morti sul lavoro? Per i morti sul lavoro e per quelle battaglie. E la vita del paese, e quella è anche politica, non è solo quello che succede in Parlamento. Ed è bello che succeda, ecco. Chiudo dicendo, citando Pertini, quando è arrivato il fascismo, le prime libertà che ci ha tolto era la libertà di parole e la libertà di stampa, dalla sera alla mattina. Erano delle libertà che al contadino del Polesine, che magari non sapeva neanche leggere e scrivere, poco gli toccava, no? E quindi questa cosa di combattere per i diritti è molto attuale, anche se è molto difficile. Zadi Smith diceva, il femminismo che vedo in mia figlia è molto diverso dal femminismo che vedo... E diceva che, l'ha detto in un'intervista recente a Tutto Libri, diceva, io non ho mai visto una generazione così terrorizzata come quella di mia figlia. Ed è incredibile che lo dica lei, mentre invece noi siamo qui a farci bello e a dire, ah, le nuove generazioni, è euforia, ah, ma come sono disinvolti, ah, ma sì, ah, ma alla fluidità di genere. Invece poi non è così. Ma anche perché è quello che... cioè, apriamo un decennio con le Olimpiadi, lo chiudiamo con lo sbarco sulla Luna, no? Quanto è bello avere un obiettivo così grande? E invece noi qui oggi, il dibattito delle nuove generazioni è, se non facciamo qualcosa... Il mondo finisce. Il mondo finisce. No, non finisce il mondo, finisce l'essere umano. E la cosa che più mi dispiace è che c'è un sospiro di sollievo. Che bello! No, e invece no. No, ma no, e invece no. Ma Sandy, ho una domanda per te, così... Mi dica. Non può diventare un'improvvisazione. No, ma nel senso che è tutto vero quello che abbiamo detto. Poi però guardo questa immagine qui, per esempio, è l'immagine dei due promotori della legge dopo l'approvazione della legge, no? Che è la legge sul divorzio, che nel 1970 viene approvata con lungo travaglio, eccetera. Cioè, in quel caso lì comunque fu la politica a capire che c'erano dei movimenti nella società, a fare una legge, non in un giorno, ma a farla, e tant'è che furono poi una parte del mondo cattolico a raccogliere le firme in reazione. Cioè, il referendum del 74 sul divorzio è un referendum per abrogarlo, che viene dai cattolici. Quindi, qualche volta c'è l'impressione, anche nelle settimane scorse, quando si è parlato di eutanasia legale, cannabis, di sarà capitato di sentir dire a Italia i diritti arrivano solo con i referendum, no? C'era un po' questo mantra. Era una grande cazzata. E però, qua ti dice che non è così. Quindi, qual è il tuo punto di vista su questo? Cioè, sul fatto che nel 70 la politica ci arriva, e poi è un pezzo di società che raccoglie le firme e dice no, attenzione, andiamo a abolirla questa legge qui. E poi, insomma, la interpreta Almirante a destra, la interpreta Fanfani nella DC. Ti rispondo subito, usando un'altra persona, in realtà. Allora, io un po' di tempo fa avevo fatto un'indagine sull'Equaterosa, parlando con un po' di donne, tra cui anche Emma Bonino, che è sempre difficile da contattare al telefono. Adesso mi direte, infatti, voi, perché tu mi hai detto che siete stati raccomandati quando l'avevo chiamata io e mi aveva risposto dicendogli e chi le ha dato il mio numero, come si permette, giustamente. No, però... Io penso che in quegli anni lì la politica era fatta da persone che credevano che avesse un senso. stare dentro, farla anche da dentro, farla dentro il partito, farla dentro i palazzi, i cosiddetti. Adesso, invece, i referendum hanno magari questa presa diversa perché molte donne restano fuori dalla politica. ed è vero, io ogni volta che ho discusso, quando avevo fatto questa indagine qui, in moltissime politiche giornaliste mi avevano risposto ma noi ci abbiamo rinunciato perché ci rendiamo conto che la nostra possibilità di intervento sulla realtà è più forte quando la politica la facciamo fuori. E' semplicemente questa la mia risposta. I canali sono tanti, sono diversi e questo è qualcosa che deve interrogare non chi sta fuori ma chi sta dentro. La grande stagione brillante, più o meno brillante che abbiamo alle spalle, dei referendum che poi sono finiti come sono finiti, delle raccolte di firme, anzi chiamiamole così, di quest'estate, l'estate scorsa, ce lo dicono, cioè che poi di fatto le leggi le fa il Parlamento, le leggi le fa la politica intesa nel senso più alto del termine. In quegli anni lì credo che ci fosse anche questa idea che tra di noi si è smarrita. Tu dicevi che ci sono i ragazzi per strada ed è un bel segnale, ed è vero. Io non lo so che generazione, che cosa combineranno questi ventenni che vogliono salvare il mondo, però di certo sono molto diversi da noi. Io avevo parlato con Lodo Guenzi, quello dello stato sociale, dei ragazzi per strada. Già è emblematico che tu dica, ve lo ricordate. Scusate, no, perché io sono tarata, sono tarata, ormai io parlo soltanto con i ragazzi di vent'anni, e allora... No, punto. Gli devi dire, no? Perché sono gli unici che mi interessano. Lo dico perché la nostra generazione, tu quando parli con un 30-40enne, è una lagna continua. Grazie. È così però, ma è una lagna di diresponsabilizzazione, perché questo è, c'è successo di tutto, adesso anche, adesso pure la guerra, adesso la guerra in Ucraina, no, è l'ennesimo colpo a se stato ai millennial, è così. Però Lodo Guenzi mi aveva detto, ah sì, questa è una generazione che ti dimostra che finalmente i ragazzi sono capaci di combattere per chi ha meno, e quindi portano in strada le istanze vere della sinistra, della sinistra intesa all'europea e non all'americana. Questo per ricondurre... Perché? Perché per lui invece parlare di diritti è un fatto di viziati. È una cosa di università e campus americani che poi viene traslata in Italia e diventa... ZTL. Esattamente, esattamente. Però questa cosa qui è la ragione per cui la sinistra, negli anni di cui stiamo parlando, le femministe le accettava con il ghigno sulla faccia. Io leggo molto spesso un pezzo bellissimo che vi ho stampato, poi magari vi leggo un estratto se c'è tempo, se non no, però vi invito ad andare a leggerlo, di Isabella Rossellini che nel 76, quindi a un anno, dà la legge sul nuovo diritto di famiglia, detta così, un periodo migliore di quegli anni per questo paese. Insomma, il nuovo diritto di famiglia sanciva molte cose importanti che ci permettono di essere, adesso, di essere più o meno alla pari. Per esempio, il fatto che la decadenza della patria potestà è il fatto che la genitorialità è qualcosa di condiviso. Questo è importantissimo. Adesso si comincia a vedere realizzato, devo dire, perché a casa mia la genitorialità condivisa, pur venendo da una famiglia di sinistra, somma, devo dire che non proprio. Però, mi sono persa? No, Isabella Rossellini. Isabella Rossellini nel 76 scrive su F Rivista, trovate l'archivio online, di un incubo ricorrente che lei faceva in quel periodo, in cui lei ha una manifestazione per diritti femmini, una manifestazione femminista, era nel corteo e a un certo punto aveva voglia di salire, però, su un palco per dire quali erano le cose che si raccontavano le compagne nei collettivi di autocoscienza, che erano questi momenti di ostensione della propria intimità, di modo da poi farne un'istanza politica. E lei racconta che sognava che in quel momento lì i compagni la menavano. E lei aveva questo terrore, cioè diceva, ma porca miseria, alla fine i nostri compagni femministi, i PC, sono quelli che ci tengono semplicemente per dovere di rappresentanza, ma che non ci fanno parlare. e questo è il problema, è un problema che la sinistra al suo interno, io credo, non abbia mai risolto davvero. Ed è una risposta, so che sono andata così come al solito mio, ho divagato, però è la risposta alla tua domanda. ed è la poca presenza femminile in politica, la poca incidenza delle istanze femminili in politica è una delle ragioni per cui ci sembrano molto più avanti, ci sembra molto più avanti quella politica fatta negli anni 70 quasi soltanto da uomini che quella fatta adesso, perché è una politica sfiancata. Io ogni volta che parlo con delle donne che sono in Parlamento mi sembra di parlare con le giornaliste italiane. Cioè c'è lo stesso problema che più siamo e meno contiamo, perché hanno capito che fa bello tenerci in mostra, ma di fatto non partecipi davvero al cambiamento delle cose e allora lo fai fuori. Non so se ho risposto alla tua domanda ma era l'unica cosa che ho detto. No, vai, vai, vai. No, volevo dire una cosa senza per carità che sono sempre bellissimi da vedere. Mettermi sul piano della questione femminile non lo farei mai. Vorrei riportare... Io non sono come Isabella Rossellini. No, no, no. Purtroppo, purtroppo no. Sono, condivido al 3000 per 3000 quello che dicevi. C'è una questione forse anche di culture politiche per, diciamo, riportarla su quel piano. Prima noi parlavamo delle difficoltà del PC, però noi siamo cresciuti nell'epoca del bipolarismo, in cui anche, cioè, quel poco, diciamo, di cui si parlava di diritti civili era comunque, diciamo, ostaggio della retorica del bipolarismo. Per cui un po' ne parlava il centrosinistra che prima, non so, ricordate nel 2006 si dovevano fare i PACS e poi si sono fatti i dico, però poi non ha... Poi è dovuto arrivare uno che veniva dalla tradizione della democrazia cristiana per fare le unioni civili perché non si è mai per l'appunto che uno che veniva dalla tradizione dei DS lo potesse fare. Però, negli anni 70, con le ideologie che avevano un peso immenso anche appunto nel fare le chiese, nel dire fate il plebiscito anticomunista, Berlinguerre che dice non votate come Almirante, Almirante che a quel punto giustamente dice non votate come comuni, cioè, no, era... Eppure, il partito liberale, cioè, il partito, diciamo, laico, però, l'alleato di destra della democrazia cristiana che sul piano dei diritti sociali era molto lontano dal popolarismo cattolico-democratico che era stato il punto di riferimento di Confindustria anche con dei finanziamenti non poco significativi, faceva il partito liberale, cioè, faceva il partito dei diritti individuali. Infatti qua, a destra, è Baslini. Cioè, uno dei due, esatto, uno dei due estensori, primi, firmatari della legge è un esponente del partito liberale che quindi non solo, come dire, vota in Parlamento, ma pone uno dei suoi esponenti, cioè, dà il nome alla legge. Io mi chiedo anche, sempre tornando a Twitter, come dire, è Liovito a parte, oggi quella cultura liberale, no, perché c'è il fenomeno Liovito su Twitter che è una, come dire, meteora a parte del fenomeno politica sui social, però, quella cultura liberale non conservatrice in tema di diritti individuali è andata perdendosi, cioè, è andata, c'è stata forse una fusione delle due tradizioni conservatrici, quella cattolica che era della destra democristiana contraria a questo tipo diciamo di interventi che poi forse alla fine lo stesso Fanfani si è trovato a rappresentare neanche troppo volentieri, era tornato a fare il segretario della democrazia cristiana dopo dieci anni. Lui non è che rappresentasse la destra della DC. Nella storia della DC questa cosa c'è sempre, Tambroni era la sinistra DC e poi faceva il governo con il movimento sociale, Fanfani più o meno la stessa cosa, però manca anche quell'altro pezzo nella politica degli ultimi vent'anni, trent'anni, cioè manca quella capacità della destra liberale di fare la destra liberale, cosa che non c'è perché poi è andato tutto perdendosi nella rigidità del bipolarismo e oggi comunque invece in una come dire, proiezione diciamo semplicemente di una destra conservatrice tanto è vero che poi oggi ci sentiamo dire che la sinistra è quella mondialista tutto insieme mondialista gayista trans non so cosa ista atlantista però anche da quel punto di vista c'è una perdita identitaria credo di cultura politica molto importante che credo colpisca volevo proporvi di tornare su uno dei materiali che abbiamo che può essere interessante anche per voglio un commento di Shani su questo perché insomma l'abbiamo capito alla fine la legge viene approvata nel 70 queste tra l'altro sono le prime pagine qui viene la stampa in onore di Shani devo dire in onore di Shani ma anche perché direi di Torino adesso per ragioni ad persona per ragioni territoriale c'è anche il messaggero a seconda del moderatore cambia ma anche perché ha un eccellente archivio archivio la stampa punto it trovate tutto dal 1870 si trova tutto quello che c'è dal 1870 poi dal 2015 in poi non c'è paywall comunque insomma diventa legge diventa legge tra l'altro con una seduta infinita che dura 20 ore quindi ore 5 e 40 infinita però poi si arriva cioè si arriva al referendum perché il movimento cattolico dice no vogliamo abrogarla questa tra l'altro è la scheda si dovessero inventare una scheda per il referendum perché fino al 70 questa è un'altra cosa i referendum non erano mai stati attuati erano presenti in costituzione ma non erano mai stati attuati sono stati regolati con una legge del 70 materialmente erano uno strumento nuovissimo ed è un voto che divide tantissimo il paese qui avete appunto sono bellissimi visti oggi al di là del messaggio questi manifesti dell'epoca e però avete anche una campagna che divide il paese dal punto di vista culturale e qui Shandi in quanto insomma esperta di cultura popolare direi ti chiedo ti chiedo di commentarci questi due momenti questo è beh voi siete romani quindi insomma io sono materana per piacere non ce l'avevamo un attore materana ti chiedo scusa qui abbiamo Gigi Proietti che viene coinvolto dal comitato per il no all'abrogazione il divorzio e guardiamo che cosa fa no e abbiamo un'altra influencer se vuoi dell'epoca Gianni Morandi senza Anna vediamo questi 30 secondi e poi ci dici quanto rivediamo anche dell'impegno dei VIP delle celebrities in politica questo è l'appello di Gianni Morandi con famiglia il 12 maggio festa della mamma festa della mamma noi io e Laura voteremo no voteremo no perché non vogliamo che sia abolita la legge per il divorzio ecco vedete la scheda per il referendum non porta nessun simbolo di partito ma soltanto un sì e un no per votare contro l'abolizione della legge sul divorzio dobbiamo votare no in questo modo qui è fantastico no c'è momenti straordinari che ci dice secondo te di quell'Italia lì che va anche nella cultura popolare a portare questa questa decisione insomma allora ci dice la parola che non abbiamo ancora pronunciato stasera e questo è significativo che è la parola felicità lo dice lo spot di proietti è questo no ti fa capire in pochissimo che quella cosa lì ha a che fare con la felicità delle persone ed è lì il grande errore della sinistra che continua ad avere che non capisce che intestarsi una battaglia sulla possibilità di essere felici è tutto cioè la politica è una conquista di felicità per le persone deve stare nella vita delle persone per renderle felici aumentare migliorare creare nuovi diritti a che fare con la felicità questo è proprio secondo me un tarlo culturale del nostro paese della cultura popolare che cosa ci dice ci dice che siamo ancora quel paese lì ma il mondo è fatto così le persone le persone hanno bisogno di esempi e questa cosa qua se ci fosse stato twitter all'epoca avrebbe provocato la solita scissione divisione in due fazioni opposte dalla parte quelli che ah che fico Morandi ah che fico Gigi Proietti e dall'altra invece ah vogliono soltanto vendere l'ultimo disco sì è tutto no è sempre tutta una una manipolazione però ci dice l'importanza dell'esempio non non vuol dire che le persone sono una massa indistinta di pecoroni che hanno bisogno di vedere uno più bravo di loro che fa il primo passo ma ci dice semplicemente che le persone sono spaventate e si fidano di chi gli piace e quindi e quindi io sono sempre molto in realtà favorevole non solo all'esempio ma proprio alla rappresentazione per quanto Tiziano Ferro mi stia sulle scatole perché lo trovo patetico però tutto quello che lui fa piano no piano 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 adesso ti spiego perché lo trovo patetico qui c'è un referendum insomma non tocchiamo ha scritto delle canzoni straordinarie ma possiamo distinguere l'uomo dall'artista possiamo proseguire possiamo proseguire però Tiziano Ferro ha fatto una cosa che per quanto a me possa sembrare una rottura di palle che a volte sembra più realista del re sembra mia zia che ti deve far vedere per forza le foto di tutti i suoi figli e quanto è fiero la cosa più bella nella vita fare figli però in realtà noi non ci rendiamo conto di quanto è importante di quanto parla di più a casa di mia nonna il fatto che Tiziano Ferro che è uno che mia nonna ascolta normalizza una condizione una situazione e ti dice ehi questa cosa si può fare va bene non succede niente e l'Italia di 40 anni fa ha bisogno ha bisogno di questo probabilmente non sarà più così tra 20 anni perché saremo tutti più avvertiti meglio alfabetizzati avremo avuto accesso anzi io ci tolgo fuori la nostra generazione da questo ma i ventenni di adesso non è che hanno bisogno di qualcuno che gli dica cosa devono votare forse no forse sì io non lo so però i ventenni di adesso per esempio hanno bisogno di un grande VIP che gli dica puoi non truccarti è una storia vecchia come il mondo non ci dice chi eravamo al massimo ci dice chi siamo sempre stati questi due esempi credo che ci dicano chi siamo sempre stati e che cos'è l'essere umano perché è così importante l'esempio anche quando ci sembra patetico e in fondo sono tutte grandi prove di democrazia queste cioè è un tentativo di arrivare a tutti Lollo l'altra cosa che raccontiamo nella puntata è il percorso della legge sull'aborto di cui già prima abbiamo un po' parlato questa sera una cosa che abbiamo notato guardando le prime pagine la lascio raccontare a te direi perché facciamo il confronto un attimo allora queste sono le prime pagine che hai messo guarda sempre la stampa lascio a te illustrare manca Roma qui uno potrebbe dire abbiamo l'aborto da una parte le BR dall'altra ma vorrei anche far notare la data signore siamo a dieci giorni da via Caetani siamo a dieci giorni dalla morte del Domoro e quindi è molto notevole come il divorzio esatto così è il divorzio e l'aborto è quasi non dico una spalla ecco ma e soprattutto viene raccontata come una legge per la donna ma perché sì è così è quello che dicevamo mi ha colpito anche molto i materiali gli striscioni cercandoli sono tutte il femminile io ricordo una volta di aver letto forse era in realtà forse era sul divorzio non sull'aborto ma insomma la mettiamo all'interno dello stesso filone a proposito del PC un articolo molto bello di Miriam Fai isolatissima femminista nel PC dell'epoca che diceva in realtà questa per noi è stata una battaglia di tolleranza prima ancora che è una battaglia di cultura politica cioè è una battaglia fondamentalmente per essere tutti quanti uguali cioè poi è la cosa veramente più antica del mondo cioè no forse erano un po' gli spartacchi cioè lo spartaco degli anni 70 cioè era una questione di tolleranza in un mondo molto poco tollerante nei confronti di ciò che non era maschio o vecchio sì però è anche vero che la legge e il referendum sull'aborto e poi direi che andiamo a chiudere se no ci uccidono giustamente sì dobbiamo fare il momento di finta democrazie sì adesso lo apriamo facciamo un referendum riceviamo delle domande non facciamo delle domande però si accettano solo domande con le risposte sì o no cioè rimaniamo così la chiudiamo subito fai vedere di nuovo Morandi che dice come devono fare lasciate qui mano destra mano sinistra no e anche come è andata la legge e il referendum sull'aborto sono andate in maniera molto diverse la legge 194 esce sostanzialmente per impedire i radicali di fare il referendum quindi esattamente al contrario il divorzio legge e poi il referendum dei cattolici che raccolgono le firme per abrogare la legge qui invece vogliono abrogare la legge fascista i partiti dicono mettiamoci d'accordo così non andiamo a referendum e curiosità l'ho risfortuna il deputato che prima Lorenzo ci ha fatto vedere che ha dato il nome insieme a Baslini sulla legge sul divorzio si dimette si dimette da deputato in protesta contro i partiti che osteggiano sostanzialmente cercano con questa legge di aggirare il la chiamata al voto popolare che comunque ragazzi la 194 prima di essere approvata inizia l'iter nel 75 perde il senato per due voti torna alla camera cambia legislatura nel frattempo perché ci sono state le elezioni nel 76 con Nenni che ha appena preso un collasso col bastone non riesce a comunque non è che poi è stato un plebiscito 12 voti ne parlavo oggi mentre ero in treno venendo qua ho scritto a lui dico ma tu hai idea di chi sia il primo firmatario della 190 perché mentre della legge sul divorzio conosciamo i nomi non abbiamo visto le foto Fortuna Baslini avremmo detto 70.000 volte stasera magari non conosciamo il numero invece dell'aborto è esattamente l'opposto perché la legge è un numero i laureati come di legge lo sanno la 194 però quella è la 194 per antonomasia chi sia stato quello che ha scritto il testo era un round robin che era la firma degli ammutinati praticamente si firmava in cerchio perché così il capitano non scoprisse ci dice un fatto che è ancora radicatissimo nel nostro paese ovvero sia l'idea che i figli tanto sono delle donne noi un po' di tempo fa alla stampa abbiamo animato questo dibattito sulla genitorialità che è immediatamente diventato bellissimo se posso grazie il dibattito sulla maternità e io ero lì che dicevo no 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 il contrario il dibattito sulla paternità ma voi non avete idea siamo stati quando l'abbiamo cavalcato come dibattito sulla maternità quindi le ragioni del no e lì a dire non c'è per forza una ragione per chi non vuole dei figli era nato come risposta alternativa alle catastrofiche previsioni dell'ISTAT cioè nel senso che non è che in questo paese non si fanno figli soltanto perché non ci sono le condizioni per farlo ci sono fette di popolazione crescente ahimè devo purtroppo mi dispiace dirlo ma è così che non vogliono non vogliono punto incredibilmente quella cosa non si recepiva cioè era il dibattito sulla maternità e quindi fin tanto che è stato dibattito sulla maternità noi siamo stati subissati da lettere richieste di intervento e che abbiamo pubblicato in parte in parte abbiamo archiviato perché insomma poi i giornali non si possono fare monotematici ahimè ma si dovrebbe anche secondo me si dovrebbero però vabbè purtroppo io ancora non decido se lo facciamo domani sera tanto domani sera sarai di nuovo quattro probabilmente ho le chiavi del circolo e quando invece abbiamo l'abbiamo spostato sulla paternità il deserto cioè io sono dovuto andare a citofonare a casa di tre quattro scrittori per dirgli che cos'è oggi essere un padre così intimoritissimi e lo vedevi no vedevi proprio questa difficoltà nel sentirsi parte di di quella cosa è un fatto che non so se riusciremo mai a contrastare però è così il genitore e il genitore il cosiddetto genitore prevalente nelle cause di divorzio quando poi dopo si deve decidere a chi affidare il bambino è sempre la mamma c'è poco da fare è così è così ed è un fatto culturale cioè direi come è andato cioè la questione del fandom sull'aborto è interessante anche politicamente poi davvero facciamo il momento consultivo se avete domande solo con sì o no come risposta non è vero anche degli interventi prendiamo senza punti interrogativi come in Parlamento cambiamo radicalmente un po' più brevi per carità gli ultimi minuti li lasceremmo appunto alle vostre domande curiosità sul podcast eccetera però è interessante perché una cosa che molti non sanno e se hanno ascoltato qui si fa l'Italia speriamo che se lo ricordino è che in realtà insomma la legge sull'aborto no Lollo viene approvata dopodiché quello che succede il referendum ricordiamo il referendum sul divorzio è sostanzialmente un plebiscito a favore della non abrogazione della legge quello sul invece il referendum sull'aborto è un gran casino perché praticamente viene approvata la legge e abbiamo due referendum uno dei radicali che dicevano la 194 è troppo morbida ed è vero l'altro del movimento per la vita che invece dice no bisogna assolutamente stringere ancora di più le maglie della 194 e il paradosso è che entrambi raccolgono le firme esatto e quindi alcuni di voi lo ricorderanno perché hanno gli anni per poterlo ricordare si arriva a votare su due quesiti no non intendevo nessuno qui ma qualcuno là si arriva a votare su due quesiti opposti cioè gli italiani lo stesso giorno ricevono tra l'altro cinque schede ce ne erano altri tre cioè ricordatevi nel 70 nel 70 c'è Moranti che vi fa vedere la scheda elettorale mettetevi nei panni e poi questa roba qua e poi c'è questo e questo insomma si trovano tre leggi sull'ordine pubblico di fatto ricordiamoci 81 tre anni dopo Moro un anno dopo la strage insomma gli anni erano quelli e due quesiti opposti sull'aborto quello che succede è che molto diverso dal divorzio no è che l'esito è scherciante il paese progressista che i giornali avevano dipinto nel divorzio l'Italia si scopre progressista e poi c'è una schiacciante vittoria del no dove però a me piace molto il abbiamo vinto dicono i radicali brutta batosta dice il movimento lo stesso risultato letto avevano aspettative fosse diverse c'è comunque un 32% che vota sì al quesito cattolico che quindi avrebbe quasi abolito contro l'undici l'undici che vota invece sì al referendum radicale il senso qual è che il paese sceglie di tenere in vita quel difficile compromesso di cui abbiamo parlato prima e era solo per raccontare la fine della storia il pregliasco comunicatore dell'epoca come avrebbe gestito le campagne di comunicazione in un casino del centro quel 32% si è poi riprodotto come le bollette fino ad arrivare al 70% delle obiezioni di coscienza da altra parte erano contrari quello che è successo va bene domande domande critiche solo sì o no tanto diciamo solo sì o no quindi insomma non abbiate paura io dico nì io so fluida tu fai questa cosa nel compromesso sono per la terza via abbiamo qualche minuto ancora per le domande quindi io ne approfitterei se no ci salutiamo insomma se no diciamo qualcosa su come avete fatto questo podcast perché secondo me è una curiosità che qualcuno ha però aspettiamo che venga da loro c'è questo terribile momento la prima domanda è sempre un casino la prima domanda è complicata se la potete scrivere per sms adesso vi do il numero di pregliasco lo so che lo volete niente rispondiamo a una domanda che potrebbero avrebbero potuto fare siete amici no sì che in realtà risponde ma qui lascio lascio a voi insomma raccontare un po' nel senso che noi stasera vi abbiamo così portato una delle puntate del podcast cui si fa in Italia diciamo ripercorrendo un po' dei contenuti che la che la animano però è un podcast che nasce con l'idea di raccontare tanti momenti e quindi diciamo sul perché forse Lollo puoi dirci tu cioè perché sono stati scelti questi fatti e qual era il taglio che volevamo dare no a cui si fa l'Italia che speriamo di aver dato così poi diamo anche appuntamento al prossimo il taglio era un po' capire quali erano i momenti che che segnano un prima e un dopo c'è sempre quel quell'accordo dei Beatles che che inseriscono e cambia un po' tutta la storia ed è interessante capire come nella nostra storia più recente quella che non studiamo a scuola perché non ci arriviamo capire invece quali sono quei momenti che hanno determinato un prima e un dopo quindi non non fare il cosa sarebbe successo se ma cosa è successo e perché sono cambiate perché sono cambiate le cose questo secondo me era è stata una puntata molto complicata dal punto di vista dei contenuti forse la più complicata di tutte perché di momenti ne aveva quattro due leggi due referendum quindi è stata abbastanza difficile da gestire da scrivere da raccontare però fondamentale ci doveva assolutamente stare altri momenti su cui abbiamo messo sotto il buon Francesco invece erano molto più complicati dal punto di vista invece di una cosa di cui vado anche molto orgoglioso dell'imparzialità del guardare al fatto con abbastanza distanza da potertelo raccontare senza parteggiare che è una cosa che di questi tempi è abbastanza rara come ad esempio Piazza Fontana la bomba di Piazza Fontana il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro quindi queste queste aspetti queste vicende un po' più complicate anche dal punto di vista del pluralismo tra l'altro è stata una puntata complessa anche perché era una puntata molto politica in cui dovevi raccontare queste leggi l'assemblea costituente la raccolta firme e non c'era passatemi l'elemento di giallo di thriller che non è per minimizzare ovviamente i fatti tragici che raccontiamo ma che in altre storie erano invece presenti narrativamente quindi noi ci siamo trovati a dove la costruire in un certo modo altre avevano degli elementi un po' più di mistero che quindi ci hanno portato a fare una narrazione diversa chiaramente il caso Moro su tutte probabilmente ma anche le stragi di mafia di cui parleremo a maggio qui al circolo ma anche Piazza Fontana che citavi tu insomma ciascuna puntata a suo modo è costruita in un modo un po' diverso ciascuna ha un testimone tra l'altro quanti di voi hanno ascoltato il podcast sulle mani ah beh dai una bella community più o meno sapete di che parli di che parli chi non e gli altri dei grandi coraggiosi allora quelli che non l'hanno ascoltato sanno che adesso lo ascolteranno questa la potete saltare la prossima volta pagano sapete come va a finire alla fine di questa però no quello che mi mi premeva dire è che ogni puntata ha un suo sviluppo ha un suo ospite qui Emma Bonino che è stata anche un po' protagonista della storia della seconda parte della storia in altri casi invece sono testimoni ma ciascuna puntata secondo me a modo suo dà un messaggio sul perché quello che raccontiamo non è un momento passato no certo ma è qualcosa che riguarda il paese che siamo oggi certo ma se voi pensate che nella passata legislatura quindi non parliamo di un parlamento di quelli parliamo del parlamento della passata legislatura c'è stata la seconda commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro evidentemente è qualcosa che ancora fa parte della nostra attualità politica cioè molti poi dei parlamentari diciamo riconfermati ma insomma comunque di signori che erano degli onorevoli della repubblica fino a quattro anni fa tre anni fa e durante il loro lavoro si occupavano di capire che cosa fosse successo in quei 55 giorni peraltro una delle difficoltà di quella puntata è stata proprio quella di coniugare due verità istituzionali quella della commissione e quella dei processi che in alcune parti non proprio secondarie si contraddicevano tra loro questo è una delle grandi difficoltà diciamo di quelle puntate paradossalmente Piazza Fontana è stata forse da questo punto di vista più semplice perché comunque i processi quelli sono sono finiti più o meno sappiamo diciamo qual è stata l'origine e i mandati di quella strage però noi passavamo da puntate in cui c'erano montagne di elementi di narrazione per cui bisognava intanto comunque averceli tutti davanti perché fanno parte di una storia che vuoi raccontare poi devi capire quali selezionare e a Monteggio c'era stato il filtro delle puntate che non poco difficoltoso e poi metterli insieme in un tessuto narrativo cioè capire che Calogero e Lorenzon si sono visti in un comune in Veneto cioè questo è forse il difficile la cosa molto bella di fare questo tipo di lavoro il lavorare contemporaneamente su Pertini che ti dice combatto per i giovani e il giorno dopo devi lavorare su Tangentopoli e Craxi che hanno creato un clima infame è sempre molto è un po' sì certo Shani noi ci rivedremo il 12 aprile un grande invitato sì a questo talento quasi favignano diciamo noi ci rivediamo il 12 aprile ci rivediamo il 12 aprile alle 21 perché racconteremo un personaggio insomma come ci sono stati pochi Larger del life cioè Sandro Pertini e le tante vite di Sandro Pertini che è il titolo anche della puntata racconteremo che lui spegneva tutte le luci racconteremo un sacco di cose che è molto attuale tra l'altro assolutamente il risparmio energetico sì quindi insomma il 12 aprile se volete ci ritroviamo qua con qui si fa l'Italia numero 2 puntata 2 e parliamo di Sandro Pertini e su tante vite l'idea era quella di salutarci con un 30 secondi che sono il finale della puntata e l'abbiamo già citata e racconta prima la fonte perché c'è una cosa che ci ha detto Emma Bonino che vi faremo sentire dalla sua voce e quindi eccola qua io una cosa solo voglio dire ragazzi i diritti come la democrazia non è una cosa che arriva per miracolo dalla sera alla mattina e non è che appena conquistato rimane lì per tabulas per sempre come la democrazia vanno curati coltivati protetti attuati cioè non è che conquisti un diritto poi lo metti sull'armadio tanto stare lì per sempre non è così perché la politica ha grandi fragilità quindi se non te ne occupi ti svegli un giorno e quel diritto non c'è più direi che possiamo buonanotte grazie grazie a tutti grazie a voi bravi allora vogliamo dire le cose che si dicono dove si può ascoltare questo podcast su tutte le piattaforme no no tutte no una sola solo su Spotify solo su Spotify perché loro se la tirano ce la tiriamo noi c'è scritto anche è un podcast originale Spotify prodotto da Spotify l'hanno pagato loro prodotto da Spotify quindi lo trovate solo su Spotify però anche gratuitamente insomma l'account gratuito vi consente ma solo su Spotify e insomma quei pochi che non l'hanno ascoltato tra voi se tornano il 12 aprile ci fanno sapere se gli è piaciuto quello che hanno sentito poi ovviamente ci sarà anche un libro tratto da questo podcast perché adesso giusto? lo so io in questo momento siamo gli unici podcaster che avevano fatto un libro esatto quindi quindi vi capiterà buon lavoro grazie a tutti grazie Shani grazie